andiamo Carmine, raccoglaci ecco questa è la serata quando è stato il nonno qui avremmo fatto la serata e è arrivata a Teredora ecco qua Teredora ce l'abbiamo un po' da percorso grazie è arrivata solo a Teredora ok queste sono state tutte stappate e poi riposte l'accoglienza italiana il calore del sud a Soccarda abbiamo i migliori vini italiani come dentro abbiamo bottiglie le ultime due bottiglie abbiamo un 2002 di Caporea un 2007 ragazzi bellissime annate eccole qua Carmine aspetta tutti quando siete su Soccarda e vi va di passare una serata all'insegna dell'italianità per un bella verace allora ragazzi dovete venire alla vecchia taterna a Soccarda e vi ricordatevi che il tutto è presto e il nome non è a Soccarda per quanto riguarda vi faccio poi